Green Pass a fasulli ed a costi elevati. La Polizia di Stato sta eseguendo una vasta operazione di contrasto al commercio online di false Green Pass Covid-19. Gli utenti venivano attratti con messaggi tipo Ciao, ti spiego brevemente come funziona attraverso i dati che ci fornisci. Nome, cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita. Una dottoressa, nostra collaboratrice, compila un certificato vaccinale e quindi sì che risulti realmente vaccinato per lo Stato. E da lì il Green Pass. Gli investigatori del servizio Polizia Postale, con il coordinamento delle procure della Repubblica presso i tribunali di Roma, Milano e dei minorenni di Bari, stanno eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori di 32 canali Telegram responsabili della vendita di Green Pass Covid-19 falsi.